Io sono Domingo, sono il gestore di Pescaria, uno dei due fondatori con il socio Bartolo Labbate. Con lo chef Lucio Mel abbiamo avviato Pescaria, che è un fast food di pesce. I clienti di Pescaria diciamo che non ha età. Abbiamo un ragazzino di 10 anni fino ad arrivare alla persona di 80 anni. Quindi questo ti fa capire che comunque la gente apprezza e ha sposato questo abbinamento tra panino e pesce, che sia crudo o cotto. Non ci aspettavamo un riscontro così grande e questo ci ha portato di fatto a raddoppiare le dimensioni del locale in termini proprio di spazio e di capacità di stoccaggio. Per il futuro pensiamo di portare Pescaria fuori dai limiti territoriali pugliesi. E vorremmo, desidereremo un piccolo sogno, quello di portarlo all'estero, magari New York o Londra.